E anche i geologi molisani sono interessati al progetto Mosaicmo predisposto dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, un percorso triennale di studi ed analisi per conoscere la struttura geologica del Matese nella zona di Boiano e dei comuni limitrofi. Abbiamo raccolto l'opinione del Presidente regionale dell'Ordine dei Geologi Domenico di Lisa sul progetto Mosaicmo che impegnerà il personale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, oltre che altre istituzioni, soprattutto universitarie, per analizzare, monitorare e studiare il territorio compreso dall'area del Matese di Boiano e degli altri comuni limitrofi, area interessata da un importante rischio sismico. Un progetto sicuramente interessante, certamente interessante, un progetto che avrà una durata decennale probabilmente, un progetto multidisciplinare che punta a chiarire alcuni punti non ancora molto chiari, diciamo, della geologia di questa zona. Una zona ad elevato rischio sismico, una zona che sostanzialmente è una depressione tettonica, quella della piana di Boiano, nella quale la sismicità è molto elevata. Ci sono stati dei terremoti molto importanti, dei quali abbiamo contezza a partire dal 1293, se non ricordo male, fino a quello molto grave del 1805 e poi ancora altri successivamente. La conoscenza del territorio, dei meccanismi attraverso i quali si formano i terremoti, la conoscenza anche geologica del territorio, è fondamentale poi per capire quali sono i rischi che corriamo e come possiamo anche affrontarli e, perché no, anche evitarli. L'Ordine, naturalmente, non può che essere estremamente soddisfatto di questo impegno dell'INGV, perché è l'INGV che è coinvolto in questo studio, ma le conoscenze che i geologi, anche molisani, avranno a disposizione sono conoscenze più approfondite rispetto a quelle che abbiamo attualmente e quindi diciamo che anche il nostro potrà essere in futuro un contributo e anche noi potremo dare un contributo maggiore ad affrontare i problemi del territorio del Molise, insomma, e di questa parte del territorio in particolare.